Allora, Anna Scafuzzo, mi puoi spiegare che cos'è accaduto oggi in aula? Oggi abbiamo perso una grande occasione perché non aver votato positivamente la delibera che accoglieva l'accordo di programma per gli scali ferroviari significa perdere l'occasione di un'enorme riqualificazione per la città di Milano. Parliamo di oltre un milione di metri quadri che attualmente sono il sedime degli scali non più utilizzati e credo che questo sia veramente un peccato per la nostra città. Di fatto c'è stato un accordo per cui la maggioranza è andata sotto perché alcune forze politiche hanno scelto di votare con la destra e questo è il risultato. Ecco, se non sono indiscreto le chiederei quali forze politiche? Sì, è agli atti quindi non do nessuna informazione non pubblica tra i fondazioni comuniste, i radicali e i biscardini che non so bene di che partito sia, insomma forse un socialista, non ho capito. A questo punto voi cosa pensate che si debba fare? Decorato in aula ha detto beh chiudiamo questa esperienza politica, andiamo direttamente al voto prima di febbraio addirittura. Lui diceva arriviamo dopo, facciamo passare le feste. No, beh Decorato fa il suo mestiere, sta all'opposizione quindi è ovvio che debba calcare la mano. Politicamente noi teniamo, la maggioranza vuole andare avanti, porterà questa città al voto come da scadenza amministrativa. Il clima che si respirerà a questo punto nei prossimi mesi quale sarà? Cioè nel senso riuscirete a ritessere un rapporto e a fare una sintesi politica perché il Comune di Milano possa rivivere quell'esperienza che cinque anni fa vi ha portati al governo? Beh certo, però forti dell'esperienza di governo che significa responsabilità e capacità di portare a termine quelle che sono le promesse elettorali. Questa deve essere la differenza. Oggi abbiamo perso l'occasione per colpa di alcuni di non portare a termine una promessa importante che metteva le basi per un futuro sul quale torneremo perché ovviamente questa è una partita che non abbandoniamo. Ci vorrà dell'altro lavoro, è un accordo che costa tre anni di lavoro. Ne avremo altre tanti per portarlo a termine nella prossima consigliatura.